4 euro e 90 centesimi per un abito che possiamo interpretare davvero anche in tanti modi. Sì, assolutamente sì. Adesso noi lo vediamo indossato sulla nostra Susanna, meravigliosa, nel giallo zafferano. Che vai! Lei lo ha abbinato anche al sandalino giallo e vediamo proprio come si intona perfettamente con il suo incarnato, anche se non è particolarmente abbronzata. No, però è una bella mora mediterranea. Esatto, guarda come spicca e come rende poi pieno di luce anche il suo viso. È stupenda questa lavorazione poi sul fondo della gonna con questi inserti di tulle che lasciano un po' intravedere le gambe e poi meravigliose le tasche sul fianco, comodissime, e lo scollo tondo proprio ad ingentilire molto il nostro décolleté e a dare poi respiro al nostro viso. Sì, perché non è troppo profondo, non è troppo accollato, le spalline mi piacciono perché vanno a contenere, a mimetizzare un po' il nostro intimo. E poi dai, il tulle, soprattutto sul décolleté, crea quel gioco davvero malezioso. Tra l'altro... Grazie. 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 Grazie.